Ha deciso di replicare in prima persona Alessandro Bruno, titolare dell'omonima trattoria di Ponte Cagnano-Faiano, che nei giorni scorsi ha fatto affiggere il manifesto pubblicitario recante a un'immagine di cinque ragazze curvi e la scritta Preferiamo la carne. Un manifesto che ha scatenato un vivace dibattito fra pro e contro. Al culmine della polemica è arrivata la nota ufficiale della CGL, che ha chiesto, attraverso una missiva inviata al sindaco Lanzara, la rimozione immediata del manifesto perché ritenuto offensivo e lesivo della dignità delle donne, paragonate a carne da macello. Sulla stessa linea l'associazione Donne Fuori dal Comune. Questa foto, hanno affermato i membri dell'associazione, originariamente è stata la pubblicità di Vittoria Secrets, che valorizzava la figura della donna mettendo in luce tutte le sue forme, mentre l'utilizzo di questa foto oggi è stato associato al solo fine consumistico. Una pioggia di polemiche che ha indotto il diretto interessato a replicare e a spiegare le sue ragioni. La filosofia era il fatto di associare il buon cibo a una sana vita, cioè proprio il contrario di quello che hanno sempre pubblicizzato le grandi case di moda, facendo sfilare persone scheletriche, quindi dicendo migliaia e migliaia di ragazzini all'anoressia. Quindi non abbiamo fatto altro che farci un giro sul web e abbiamo trovato questa immagine stupenda di modelle curvi e infatti questa immagine è stata utilizzata proprio per andare contro a quelle che erano le immagini dell'anoressia. L'immagine di queste donne che preferivano la carne, pensavo fosse un messaggio giusto, un messaggio vero che poi è stato travisato con messaggi brutti, violenti, offensivi, tipo il fatto che io avessi associato le donne al bestiame da macello e cose del genere. Poi andando sul web se ne trovano di tutti i colori. Io sono un marito di una donna bellissima e di due figli stupendi, cioè sono una persona seria che lavora dalla mattina alla sera, quindi non sono un pubblicitario, faccio il cuoco per mestiere, quindi non avrei mai immaginato di creare una cosa così contorta, così brutta. Alle persone che hanno travisato il messaggio mi sento di dire riandatelo a vedere per bene, cercate di capire quello che è il messaggio vero che io ho voluto lanciare. Se non ci riuscite allora non posso farci niente perché sto cercando di spiegarvelo. La CGL invece non riesco a capire cosa ha potuto mai immaginare. Mi sento di ringraziare il sindaco che si è posto in prima persona difendendo quello che era il mio messaggio, il messaggio quello vero. Quindi ha fatto comunque qualcosina di veramente importante, senza interesse e senza altro. quindi vuol dire che veramente aveva capito il nostro messaggio.